Salve a tutti ragazzi, sono sempre io e benvenuti in questo nuovo video del FIFA World 2 Championship Milan-Inter Il Derby Il Derby, veniamo da una sconfitta contro il Napoli pazzesca Questa è la classifica, bisogna vincere, se no il Milan ci viene attaccati al culo E poi ringhia Questa è la formazione del Milan A chi vi importa? Abate a destra, MaxxS, Zapata, Deci a sinistra, Constant, Nucerino, Montolivo, Niang, Ballotelli Constant davanti alla difesa Non so Va bene Questa invece è la formazione dell'Inter, classico Però al posto di Palascio questa volta ha messo Mauro Riccardi Accompagnato da Royce Dietro Wijnaldum, Warin a destra, Averez a sinistra, Kovacic, Jonathan, Rolando, Wangesus E Letton Baines, Chesney in porta, non far cagate puttana Eva Cioè perché l'ultima volta è veramente stato qualcosa di impressionante Subito Icardi, pericoloso Può andare, non lo ferma nessuno, ancora Mauro Riccardi La mette in mezzo Dove c'è Marco Reus Che spizza di testa, non riesce a colpire Kovacic ce la mette in mezzo, esce Akinfev E la fa sua Subito l'Inter è pericolosa Il rilancio di Akinfev E il Sarau Gran palla per Baye Niang Poi Alvarez, ottima la diagonale che ha compiuto E riparte l'Inter Marco Reus Wijnaldum Alvarez, grande palla Ricky, grandissima palla Nocerino Ma come Nocerino? McSense In seguito da tutta l'Inter praticamente Riprende palla l'Inter Attenzione Il tiro Alvarez Ricky Alvarez All'ottavo minuto 1-0 Inter Ricky Alvarez Non ho capito che cazzo è successo neanche Gran recupero di palla di Guarin Wijnaldum La mette in mezzo per Icardi Che prova il tiro Era spinta corta di Akinfev E Alvarez era lì In agguato E la butta dentro Con il suo sinistro 1-0 Inter Grande partenza Della squadra di Milano Il quale? Icardi Recupera di nuovo pallone Recupera di nuovo pallone Wijnaldum Prova il tiro da fuori Akinfev Stavolta la blocca Siamo pariti veramente bene Così vi voglio ragazzi Così vi voglio Tonici Miang Guardate Leighton Che classe Poi Alvarez Perde il pallone Lo recupera Mateo Kovacic La rigioca ad Alvarez Vede Wijnaldum libro C'è Marco Reus Un gran movimento di Marco Reus Il tiro di Marco Reus Attenzione La recupera Marco Beis Gioco di gambe Su Miang Che la butta in fallo laterale La spazza via Grande partenza ragazzi Alvarez Di nuovo per Marco Reus Ancora Alvarez Con calma Su Leighton Baines Che rientra Si mette la palla sul sinistro Mai lasciare il sinistro libero a Baines Ma neanche il destro Prova il tiro Leighton Baines Akinfev Non ho ancora visto La maia Di che colore Alla maia Scesni One Jesus Per Marco Reus Rientra sul sinistro Attenzione Marco Nocerino Grande intervento Abate Montolivo El Sarawi In seguito da Jonathan Zapata Un grande intervento di Icardi Per rubargli il pallone Mianga Attenzione One Jesus Oh brutta palla di Alvarez Questa volta Mianga Rolando Una muraglia Poi Icardi Oddio che palla per Marco Reus Grande diagonale di Abate Qui a chiudere Marco Reus Poi secondo me commette fallo Però vabbè Insomma Queste sono idee Marco Reus Il tiro da fuori Akinfev Che miracolo Mamma mia che miracolo Qui su Marco Reus Nello stretto Il tiro di destro Poi con la mano di richiamo Akinfev No Lo batte Alvarez Il calcio d'angolo Ricky Alvarez Sulla testa di Mauro Riccardi Arriva Rolando Non lo posso far tirare da fuori Questo Guarda che stop che fa Vabbè Da Rolando a One Jesus Eccolo che può tirare Attenzione La deviazione Mettila in mezzo Mettila in mezzo La mette in mezzo La su terra Era buona l'idea Poi Bains Uh Credo fosse passato Costante Matteo Kovacic Che intervento Che intervento Di Kovacic A rubare tutto A fermare tutto Wijnaldum Attenzione costante Può dare una bellissima palla In profondità Per Balotelli Che fa il numero La mette in mezzo Per fortuna Dove non c'è nessuno La palla finirà Rimessa laterale Per l'Inter 27esimo Del primo tempo 1-0 Inter Gol di Riccardo Alvarez Poi Rolando In qualche modo Un po' rischioso Forse Un po' troppo Poi è una palla lunghissima Non mi fa cambiare il giocatore Ci volevo andare con Leighton Bains Ma FIFA fa un po' Il cazzo che gli pare Non c'è mica problema Abate Stop a seguire Rubato da Il pallone Da Leighton Bains Che poi se lo allunga Va addosso a Constanta Che gliela ruba Montolivo Balotelli Buona la pari Gran gol Gran gol di Nocerino Questo è un gran gol Veramente un gran gol Uno pari Al 32esimo Ripareggia il Milan Non l'aveva mai tirato in porta Ma ovviamente Così Niente da fare Per Cesni Stavolta E quindi 1-1 Una bella partita Comunque Giusto così Tionfa il calcio Mortacci sua Bains Può andare Può andare ancora Leighton Kovacic Per Riccardi Non riesce a spizzarla Montolivo Montolivo Palla in profondità Per il Sharawi Che può andare Può andare in velocità Grande intervento di Johnny Che palla era Marco Reus Ma porco il clero Ancora il Sharawi Va tutto da solo Miang Cesni la tiene Rinvio lungo subito Dai spizzala Bravo Miang Spizzata per Marco Reus Che può andare Può andare in velocità Attenzione Marco Reus McSesh Che chiusura Porco figo Nocerino L'autore del gol Del pareggio Attenzione Poi Alvarez Oddio Oddio Che gol Ma che cazzo di gol Ha fatto Riccardo Alvarez Ma che gol Signori Mamma mia Che gol Che ha fatto Al volo Di sinistro Mamma mia Ma che diagonale Infernale Doppietta di Alvarez Che diagonale Infernale Al 42esimo L'Inter Passa di nuovo In vantaggio Nulla da fare Per Akif Veramente Nulla da fare Questo è stato Un gol Dalla madonna Veramente un gollasso Fuori gioco Fuori fuori Non c'è arriva Puttana c'è arrivato Questo negro Guarim Ancora con stone Per un torino Via Un minuto Forza Andiamo nel spogliatoio Con questo risultato Con questo risultato Tiela C'è Di Piero 7 Botta via Scelti Botta via Qui Marco Reus Poi Kovac Se la butta Al secchio A un minuto di recupero Siamo già Al 48esimo Praticamente Eccolo lì Quindi signori Finse qui il primo tempo 2 a 1 Inter Riccardo Alvarez All'ottavo C'è arrivato al 32esimo E al 42esimo Sempre Riccardo Alvarez Quindi doppietta Se la meritava un po' Se la meritava Jonathan Per Guarim Che si è visto Davvero pochissimo Anche se Il tiro Sul primo gol Di Alvarez Era il suo Quindi E il Sarawi Rolando In seguito Costante In seguito Da Rolando Scusate Gli ruba il pallone Kovacic Per Guarim Le due punte Hanno fatto Praticamente Lo stesso movimento Poi abate Rilancia Sui piedi Di Mario Balotelli Kovacic Palla per Marco Reus Di Wijnaldum Il tiro di Marco Reus Centrale Hachim La fa sua Facile Facile Rolando Sulla testa Di Riccardo Alvarez Constante Grazie Recupera Palla di Wijnaldum Può andare Marco Reus C'è zappata Ancora Wijnaldum Palla per Mauro Riccardi Che rientra Prova il numero Guarin Bella palla per Riccardi Però perde Di nuovo il pallone Miang Grande Matteo Fortissimo Fallo Scovacic Giusto Giusto La batte corta Per Guarin Ho provato il tiro Scusate Ci stava La sua sfiandrata Ci sta come sempre Constant Si usa la suola Constant Marco Reus Gran palla Eccolo Guarin Il tiro di Madonna mia Il tiro di Guarin Che distrugge Hachim Batte il calcio D'angolo Icardi Sulla testa Di Rolando Ancora Hachim Sempre Icardi Dalla bandierina One Jesus Quasi gol Il rinvio di Hachim Rolando Oh attenzione Un buco clamoroso Dalla difesa dell'Inter Ma c'è Johnny E' sempre magia Poi rilancio Il Ma Non ho capito Cosa è successo Mauri Calabi 17 gol in campionato Esce Nocerino L'autore del pareggio Ed entra Andrea Poli Jonathan Per Guarin Oddio Gli era tirato addosso Montolivo Riparte il Milan Attenzione Guarin La recupera Per fortuna La butta in fallo laterale Ma va bene così Si è perso il pallone Signori Esce Rau Montolivo Constant Desciglio In seguito da Guarin Alla meglio Freddy Ma no Perché Ancora Guarin Alla meglio Su tutti E fa ripartire L'Inter Pala filtrante Per Riccardi Che vede Dall'altra parte Wijnaldum Che prova Il tiro Il tiro al volo Bim Bim Fuori Sfiora il palo Cambio Dov'è Rodrigo? Ci sei Rodrigo? Ci sei? Forza eh È il tuo momento Palazzo Io farei fare una standing ovation Anche a Ricky Alvers E via dentro Toven E via Toven Rolando Così Oddio che palla per Marco Reus Un po' lunga Fuori gioco Perfetto Forse ci poteva Oddio scusate Forse ci poteva arrivare Comunque Da qua si vede nettamente Il fuori gioco Quindi due cambi per l'Inter Esce l'autore della doppietta L'uomo partita Per il momento Entra Toven Ed esce Icardi Tanta corsa Per lui Ed entra Rodrigo Palazzo Buenaldo Eccolo subito Rodrigo Palazzo Protagonista Madonna Desciglio Che intervento Il Sarawi Alla meglio Su Quello là Constant Se tu ricevi Il passaggio filtrante Constant Poli Il Milan ci crede Anche perché siamo 2-1 Non è che Giustamente Toven Palla filtrante per Palazzo Attenzione Non esce Hachim Va bene La palla è lunghissima Buona l'idea però Buona l'idea Max S Per Costante Montolivo Desciglio Che intervento Di Johnny E' sempre magia Johnny Sempre magia Johnny No 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 Guardate l'Inter Come se ne esce Così su tutti i scolpi di testa Poi Max S Il tiro Balutelli Inseguito Bains Ottima Ottima chiusura Poi Tovena Tende un attimo Comunque guadagna una rimessa laterale E la perde subito Puttana merda Il tiro di Balutelli Da fuori Difficilmente si vedono tiri da fuori Perfecto Quel becher Dio 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 U – P superspring Porca troia Montolivo Figa no Figa no Ma pensa te Sì No 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 Esci esci dio Forza Buonardo C'è Marco Roche Forza Marco Forza Sì cazzo Sì Marco Roche Quanto cazzo sei forte Porca troia E l'Inter passa in vantaggio E vaffanculo Al novantesimo Andiamo a prenderci questo cazzo di scudetto Quanti? Cinco minuti di recupero Porca tua Nel Sharao Vai vai Fottetevi bastardi rotti in culo Toveno Largo per Palacio Kovacic Jonathan Ma porco dio Scusate De Sciglio Guarin Zazza Sì Zazza E la merda C'è ragazzi Se Zapata riesce a fare dei lanci così Possiamo andare tutti a casa Butta via sto pallone Butta via Sì 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 Abbiamo vinto signore Abbiamo vinto il campionato Cosa succede? O è la festa per il derby O abbiamo vinto il campionato Cioè Nel senso matematicamente Avanti Vediamo Vediamo C'è bloccato tutto Ma porco Ah ok Forza Vediamo I make best friends And I should make my move With Ci sono bloccati Signori Noi ci vediamo nel prossimo video Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio E non potremo vedere cosa è successo Vi lascio con questa suspense Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video